Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi una delle partite che ha deciso il Superbet Poland Rapid & Blitz. Dopo 4 giornate, prima dell'ultima giocata ieri, Duda è da suo al comando della classifica, ma Magnus Karsten, che era partito male nella fase Rapid, nella prima giornata delle Blitz con 5 vittorie consecutive, si è rifatto sotto. Ma deve però continuare a vincere perché Duda non ha mollato. E allora vediamo se ce l'ha fatta proprio contro un altro polacco, quel Wojtacek, che lo aveva battuto nella partita Rapid. E allora non dimenticate il like e partiamo subito. Perché Magnus Karsten di bianco apre con C4, l'apertura inglese. E allora Wojtacek risponde con cavallo in F6, cavallo in C3 e la spinta è 5, cavallo in F3 attacca il pedone, più che avanzarlo, il nero preferisce sviluppare il cavallo, infatti arriva cavallo in C6 e questa è la famosa variante dei 4 cavalli. G3 è mossa ampiamente più giocata, invece Karsten spinge subito al centro. Arriva D4 che minaccia il pedone e allora è per D4, il cavallo ricattura, non si cambia tutto perché centralizzare la donna non è che sia un granché, allora alfiere in B4 inchioda il cavallo sul re, arriva veramente G3 adesso, arrocco corto per il nero bisogna completare il fianchetto, arriva alfiere in G2. Ora attenzione perché questa fase di apertura si fa interessante, torre in E8 è la mossa più giocata, sicuramente logica, torre su colonna centrale va anche a puntare la colonna del re, tra le meno giocate, oppure un po' meno giocata, ma alfiere per cavallo con scacco che sciupa la struttura pedonale, certo perde la coppia degli alfieri, però al nero nella pratica da ottimi risultati, invece il polacco gioca cavallo in E5, è sempre la solita idea, però con l'idea anche di vincere un pedone, ma c'è donna in B3 che protegge un po' tutto e attacca l'alfiere, alfiere si sposta in C5, attacca il cavallo, il cavallo si porta in C2, e allora arriva D6, ma qui sarebbe da studiare, mossa più giocata e anche suggerita dal computer, cosa fa però di brutto questa mossa? chiude la via di fuga a questo alfiere, quindi o C6 non sarebbe male, o di nuovo torre in E8, A5, non lo so proprio, bisognerebbe veramente metterci la testa in questa posizione, magari qualcuno di voi che gioca questa partita inglese, questa variante dei 4 cavalli da nero, ci potrebbe anche dare una mano, e allora Carlsen questo alfiere lo attacca subito, cavallo in A4, alfiere in B6, cavallo per alfiere, si riprende verso il centro, in modo tale da liberare anche la torre. E allora questa donna ha fatto il suo compito, e anzi si trova male in B2 perché blocca, scusate, si trova male in B3 perché blocca proprio il pedone in B2, e allora donna in C3, e qui naturalmente l'idea è creare la catena pedonale e magari anche sviluppare questo alfiere in B2, torre in E8, e qui bisogna arroccare. Questo è un altro momento importante, ma stranissimo di questa partita, perché qui l'idea più logica qual è? Quella di lasciare la colonna alla torre e riposizionare il cavallo in C6. E infatti il cavallo in C6, che sarebbe appunto l'idea migliore, pensate, non è mai stata giocata, è stata giocata la buona spinta D5. Invece arriva qui l'orribile novità di Wojtacek, alfiere in E6. Si sposta lasciando in presa il pedone e facendo quest'altra minaccia. Ora Karzen manca le due continuazioni più forti, e poi parleremo di come mai. Qui praticamente si può catturare subito, alfiere per pedone in B7 arriva con tempo, e anche se la torre si sposta in A7 e minaccia l'alfiere, l'alfiere può tranquillamente tornare indietro. Il nero, il pedone, non lo può riprendere, perché dopo alfiere per C4 arriva F4, che ricordiamoci, un pezzo sotto attacco, difeso solo da un pezzo, è una grandissima debolezza tattica. Ha voglia di giocare alfiere per pedone in E2, torre in E1, il nero può abbandonare. Qual è quell'altra idea forte? L'altra idea forte è giocare direttamente F4, e allora dopo cavallo in C6, E4, qui praticamente non si può più far niente, non ci sono minacce. Dopo B3, alfiere in B2, e il bianco è uscito dall'apertura con una posizione da sogno. Invece cosa fa Karzen? Lui continua col suo piano B3, perché in queste blitz, come mai non le ha viste? In queste blitz a 3 minuti, molto probabilmente, anzi sicuramente, questi campioni vanno proprio col pilota automatico. Lui ha un piano strategico in mente, vuole preparare la posizione, iniziare a pensare dopo per non perdere tempo. Allora, donna in C8, probabilmente la mossa migliore, alfiere in G5 minaccia di fare un danno all'arrocco, e allora il cavallo va spostato, ma questo? Invece Polacco gioca a cavallo in E che va in D7. Vedete com'è un po' tutto bloccato il nero? Quindi sicuramente c'è un vantaggio posizionale per Karzen che attacca anche il secondo alfiere. Cavallo in D4, allora H6 attacca l'alfiere di Karzen, alfiere indietro in E3, alfiere in G4. Adesso, naturalmente, viene subito in mente di attaccare l'alfiere con un pedone. Noi giocheremmo al volo H3. E invece Karzen gioca a F3 che è molto più precisa, perché vedete, questo alfiere deve lasciare questa diagonale, cioè il cavallo, e quando l'alfiere si sposta, sarà direttamente l'alfiere di Karzen a conquistare questa fortissima diagonale. Torre in F che va in E1, alfiere in G6, alfiere in F2, si sposta per avanzare in E4. Cavallo in C5, arriva E4. Cavallo in F che va in D7, arriva anche A4. Cavallo in E5, anche la seconda torre si porta al centro, cavallo in C6. Allora, cavallo in B5, vuol tenere bloccata la donna, e allora lo attacca subito Wojtacek. Cavallo in E7, cavallo di nuovo in D4. Cavallo in C6, cavallo in C2. Cavallo in A5, ora, attenzione sempre alle mosse intermedie, perché qui non si può giocare la forchetta di pedone, perché sappiamo che uno dei bersagli principali per evitare, per uscire dalle brutte situazioni, oltre allo scacco e la minaccia di matto, è l'attacco sulla donna. E allora, il pedone è sotto attacco davvero? E allora Karzen gioca torre in B1, donna in D7, connette le torri, scusatemi, connette le torri, cavallo in E3. Guardate che Karzen ha trovato un'altra bella casa avanzata per il cavallo. E allora, cavallo in C6, cavallo in D5, cavallo in E7 lo riattacca e Karzen lo risposta. Cavallo in F4 attacca l'alfiere, alfiere in H7, fermiamoci un attimo, guardate, vantaggio di spazio micidiale. E la coppia degli alfieri, questa è veramente una posizione terribile per il nero, guardate gli alfieri, che minacce e che controllo che hanno sulla scacchiera. Già, alfiere in H3, protetto dal cavallo, porta indietro la donna, l'altro, andando in D4, attacca direttamente dal rocco. Karzen ricentralizza la torre, allora, cavallo in C6, se non altro impedisce alfiere in D4, e arriva di nuovo cavallo in D5. Centralizza la torre, anche il polacco, torre in A che va in D8, e qui, la grande idea di Karzen, arriva a 5. Minaccia di vincere un pedone, B per A5, per quale motivo Karzen ha fatto questo sacrificio di pedone? Cosa è cambiato nella posizione del nero? Siamo arrivati al nostro quizone, perché c'è un colpo tattico a disposizione del bianco. E allora mettete pure in pausa se volete, e da voi la parola. Ritorniamo subito a noi, e cosa è cambiato? È cambiato che il cavallo non è più protetto da due pedoni, e allora alfiere per cavallo, come minimo, vince direttamente il pezzo, perché il polacco è costretto a catturare col pedone D, si apre l'attacco di scoperta della torre sulla donna, e quale migliore scoperta di dare uno scacco? Cavallo in F6 con scacco, pedone è costretto a catturare, torre per donna, torre per torre, donna che cattura in F6. Si minaccia anche a H6, e allora il nero deve giocare torre in D6, che attacca la donna e protegge il pedone, donna in H4 rimane attiva sul lato di re, cavallo in D4. E ora Karzen, seppur a tre minuti non si fa impaurire, non si cura del pedone, va dritto contro il re. Arriva F4, e qui non si può di certo catturare, e non lo farà il polacco, come mai? Perché dopo cavallo per pedone, arriva prima E5, torre in D6, arriva G4 per spingere in F5, e direte voi, ma non si può prendere il pedone? Non si può prendere, perché dopo il cambio delle torri, arriva lo scacco di donna. Vi faccio vedere, naturalmente, prima di tutto, ricentralizzare il cavallo, è l'idea migliore, e se arriva F5, e qui, che minacce terribili, se torre per pedone, torre per torre, la torre ricattura, arriva lo scacco di donna. Dove si va? In G7, F6 con scacco, re in G6, e guardate che succede, donna in H6, minaccia matto, e quindi vincerà l'alfiere, re in G5, e vince l'alfiere, gli scacchi, l'attacco contro il re, con due soli pezzi, non serve a niente, vi lascio la continuazione, della linea in descrizione, comunque, è più 6. Quindi, dopo, cavallo in D4, Karzen spinge in F4, cavallo in C2, attacca la torre, e allora, torre in E2, sicuramente buona, E5, giocata da Karzen, stessa minaccia sull'altra torre, torre in D2, e adesso, un'altra tattica eccezionale, torre in E2, con torre in presa, che torre che non si può catturare, che dopo torre per torre, donna in G4 con scacco, si ripiglia il pezzo, il vantaggio diventa sempre più grosso, perché il nero non ha nessun tipo di contrattacco, e allora, torre in D1 con scacco, re in F2, cavallo sotto attacco, si porta in D4, torre in B2. Ora, certo, il pedone si può riattaccare, ma intanto sta per cadere H6, e allora, torre in C1, donna che cattura H6, cavallo in E6, arriva G4, torre in D8, e l'ultimo colpo tattico, D5, Wojtacek abbandona due pezzi, contemporaneamente sotto attacco. Quindi, un inglese micidiale, di Karzen, che non ci crederete, dopo quell'avvio shock, della fase rapid, dove era, in mezzo al gruppo, ha vinto, con una serie di vittorie blitz incredibili, il Superbet Poland, rapid e blitz. E adesso, noi lo aspettiamo, il 30 di questo mese, per l'inizio del Norway Chess, che è uno dei tornei, a tempo lungo, a tempo classico, più prestigiosi dell'anno. e ci sono dei partecipanti, veramente fortissimi, c'è Karzen, Firuja, Caruana, Nakamura, Wesley So, insomma, ce ne sono, tantissimi. Montepremi, ricchissimo, e quindi, se non siete ancora iscritti al canale, e vi piace seguire, questi tornei, vi chiedo veramente, di iscrivervi, in modo tale da guardarli insieme, e da aiutarmi, a far crescere il canale, spero, che questa inglese vi sia piaciuta, io, naturalmente, vi ringrazio tantissimo per l'ascolto, e noi ci vediamo domani, con un nuovo video, e vi porterò, il buon Moroni, così, siete tutti contenti. A presto!